Stamattina si è verificato un evento delittuoso in quanto un malintenzionato armato si è recato all'interno della struttura con il chiaro intento di effettuare una rapina presso l'area dove si svolgono i pagamenti per le attività e per le prestazioni ospedaliere ed è stato prontamente fermato da una guardia particolare giurata dipendente dall'istituto di vigilanza G4 Vigilanza ed è stato immobilizzato e al momento si trova presso la stazione dei Carabinieri di Santo Spirito di Bari. Ci siamo trovati qua per fare un cambio medico a bambino, mentre stavamo uscendo all'improvviso è entrato un ragazzo di circa 15 anni che intimava al metronote di consegnare la pistola, puntando la pistola sua verso il metronote dammi la pistola, dammi la pistola e il metronote ha detto ma che stai dicendo, che stai facendo vedi se vai fuori, insieme al metronote della ditta G4 se non sbaglio l'abbiamo fatto uscire fuori l'abbiamo fatto detreggiare. Nel fatto detreggiare alla quarta volta, quinta volta che il metronote gli ha detto getta l'arma, il ragazzo ha gettato l'arma e il metronote l'ha bloccato a terra. Nel frattempo siamo andati a chiamare i Carabinieri e sono intervenuti i Carabinieri.